Amici, amiche, colleghi, studenti, autorità, vi confesso, non posso nascondervi, che sono alquanto emozionato oggi perché siamo qui per conferire una laurea honoris causa, la prima laurea honoris causa dell'Università Pestaneri di Siena a un grande scrittore, a un protagonista assoluto della letteratura contemporanea, quale è senza alcun dubbio José Saramago. Non mi sembra irrilevante la considerazione che questa sia la prima laurea honoris causa conferita dal nostro giovane Ateneo perché si tratta di una circostanza che ha certamente influenzato la nostra scelta, la ha certamente caricata di un significato, di un valore simbolico ulteriore, aggiuntivo. La nostra preferenza è andata ad un autore la cui opera rivela straordinarie doti di spessore culturale, di tensione morale, di impegno civile coniugate con una stupefacente energia visionaria e con un intenso sperimentalismo espressivo che traduce nella scrittura le inquietudini della modernità. Motivando la decisione di assegnare a Saramago il Nobel 1998 per la letteratura, l'Accademia di Svezia riconosceva che grazie a parabole sostenute dall'immaginazione, dalla compassione e dall'ironia, lo scrittore portoghese ricostruisce e rende tangibile una realtà difficile da afferrare. Da più parti si è osservato che il Nobel a Saramago è stato anche un risarcimento fin troppo tardivo attribuito a una grande letteratura come quella portoghese che non era mai stata gratificata dal prestigioso premio. Una disattenzione tanto più sconveniente qualora si consideri la vastità dell'universo linguistico lusofono e l'importanza della sua tradizione letteraria. Fa piacere rilevare al confronto la relativa tempestività dell'interesse del pubblico italiano per l'opera di Saramago, sintomo di una attrazione forte da collegare forse alle affinità profonde, i due paesi vedetta come il Portogallo e l'Italia, entrambi crocevia abantico di genti e di culture diverse e quindi più avvezzi di altri alle complessità labirintiche della ricerca comunicativa. A queste altezze estreme si colloca infatti la scrittura di Saramago. Altezze che possono dare le vertigini e togliere il respiro perché si levano audacemente con gli strumenti dell'invenzione linguistica e letteraria fino a sondare le verità più angosciose dell'essere umano e della sua storia. Vorrei rivolgermi direttamente a Saramago innanzitutto per ringraziarlo infinitamente di essere qui con noi, per ringraziarlo anche di averci fornito e di leggerci tra poco un testo inedito suo pensato appositamente per questa occasione. e vorrei anche comunicare a Saramago due motivi particolari del mio interesse personale per la sua opera. Il primo motivo si lega, si lega, si collega alle mie competenze professionali di linguista ed è l'interesse per il recupero che lei fa nella sua opera della dimensione orale. Un'oralità da intendersi non in senso superficiale come parlato spicciolo ma come strumento di conoscenza del reale. Il secondo motivo si lega, si collega invece al mio gusto personale di lettore. Un gusto che mi porta particolarmente ad apprezzare la sua vena ironica. Anche l'ironia ha naturalmente un forte valore conoscitivo. Mi viene da ricordare ad esempio la pagina dell'anno della morte di Riccardo Reis in cui campeggia Anibale viene attribuito il nome di Ugolina con riferimento al conte Ugolino di dantesca memoria. Anche in questa straniante sintesi di tragedia e di ironia si coglie il segno di una personalità intellettuale del tutto fuori del comune. Io non voglio togliere altro spazio a quelli che mi seguiranno e in particolare al maestro e quindi do la parola alla professoressa Benedetti che ci dirà anche lei qualcosa e ci leggerà tra l'altro la motivazione, non del Nobel in questo caso ma della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana della nostra università che ha conferito la laurea honoris causa appunto a Saramago. La Facoltà di Lingua e Cultura Italiana accogliendo con vivo entusiasmo l'istanza di alcuni colleghi particolarmente sensibili ai grandi temi e alle grandi figure della letteratura mondiale ha deciso di conferire la laurea honoris causa in lingua e cultura italiana a Giuseppe Saramago trovando piena collaborazione per quanto riguarda la procedura amministrativa nel Ministero dell'Università e nel Ministero degli Esteri che intendo ringraziare. Siamo lieti che in questa scelta la Facoltà si sia trovata, non a caso direi, in piena sintonia con l'amministrazione cittadina, con il Comune di Siena così che il programma dell'intera giornata si articola in una serie di iniziative che rendono più bella e più solenne la festa. Prima di dare lettura della motivazione vorrei dire due parole in più per ringraziare il nostro grande ospite e, data la sede e l'occasione, il riferimento sarà alla sua particolare affezione per la Toscana e per Siena. In quello che è forse il suo scritto più intimo tradotto in italiano, il manuale di pittura e calligrafia, Saramago riflette sulle possibili rappresentazioni dell'arte tra Firenze e Siena e la riflessione ruota attorno a una parola a concetto che colpisce fortemente per la sua forza iconica, la lamina. Cito Tutto è autobiografia. Io che la cerco lo affermo con più ragione. L'autobiografia ha la ragione? Lei si introduce ovunque. Lei, ma quale delle due? Come una sottilissima lamina che, inserita nella fessura della porta, fa saltare il chiavistello, spiandola a casa. Tra Firenze e Siena venne a mancare lo spazio dove introdurre la lamina rivelatrice. Tutto rimase a quel raso d'ombra che le opere d'arte proiettano, a volte nelle semplici asperità della pennellate, a volte nel micrometro rugoso della pietra levigata. Vorrei dire al nostro illustre ospite che mi piacerebbe che il rinvenimento dello spazio per la lamina rivelatrice potesse, chissà, partire proprio da questa occasione, nata in una istituzione di dimensioni piccolissime che però già nel nome reca impressa una vocazione internazionale. E tuttavia questa vocazione internazionale non sarebbe pensabile senza il lungo percorso, e cito ancora da Saramago, all'interno di noi stessi per la cultura che ci ha educato e che ci sta educando. Si potrebbe anzi dire che questa consapevolezza somiglia un po' a quella specie di paradosso del viaggiatore che in viaggio in Portogallo fa riconoscere al visitatore portoghese del Museo di Arte Antica di Lisbona, cito, che il più bel quadro del mondo si trova a Siena. Un piccolo paesaggio di Ambrogio Lorenzetti, poco più grande di un palmo nella sua maggiore dimensione. Così mi piace pensare che potrebbe dirsi di noi in questa occasione senese in cui tributiamo l'omaggio della nostra laurea a un grande scrittore portoghese. Passo ora a leggere la motivazione del conferimento della laurea tratta dal verbale del Consiglio di Facoltà del 12 febbraio del 2002. La produzione poetica e narrativa di José Saramago che gli ha assicurato il premio Nobel 1998 costituisce una originale e drammatica testimonianza delle problematiche che influenzano anche la consapevolezza espressiva delle generazioni contemporanee. Nel suo manuale di pittura e calligrafia Saramago dedica delle pagine di alto significato simbolico al patrimonio artistico, urbanistico e iconografico italiano. Alcune pagine sono dedicate a Siena e al suo tessuto storico-culturale. Dalla rappresentazione delle vicende che coinvolgono le manifestazioni del gusto e del costume delle varie città italiane visitate con la partecipazione al tempo stesso dolente ed entusiasta si evince un'affezione che riguarda l'Europa un continente da rivisitare con quel sentimento dell'unità pronunciato non soltanto dagli statisti ma anche dagli artisti e dai poeti da Federico di Svevia ai propulsori degli oderni sistemi istituzionali. Grazie. Do ora la parola per la laudazio canonica al professor Riccardo Campa della nostra università, professore ordinario della nostra università che ci parlerà di José Saramago e il libro del mondo. Grazie. L'universo delle parole soggioca l'inventiva di José Saramago che si converte in un'esegeta dei loro significati liminari nell'intento di ampliarne o modificarne il circuito espressivo. La sua abilità mitopoietica si armonizza con la propensione disquisitiva da parte di un demone e versore che gli ispira in un brano di Deste Monde d'Otro pubblicato nel 1985 la sagacia interpretativa dell'allocuzione e del discorso e con la suggestione dell'inedito del mondo egli si prova a riscriverne la vicenda riservandosi di contestarlo con un sì o con un no come nella storia dell'assedio di Lisbona nella quale interagiscono le sconcertanti elaborazioni intimistiche di un predone della storia con le epigrammatiche testimonianze guerriere. La realtà, egli afferma trova nelle figure di pietra una congruenza che rafforza l'immaginazione e la rende sempre più sintonica con l'abrasione delle circostanze e la transitorietà del tempo. Le analogie conquidono gli spazi interstiziali fra le parole e inaugurano un codice rappresentativo che contempori l'immediatezza e l'estemporaneità. I periodi agglutinati da una punteggiatura per così dire surrettizia raggiungono una maggiore efficacia nell'empido affabulatore nel periodare apparentemente fulmineo ma scenograficamente contenuto. Fu in alcun lugar si è consiente è stata autologia afferma lo scrittore in oggetto a quasi quasi a sottintendere che ogni narrazione si articola in una spazialità affettiva in un perimetro di eventi reali e fantastici commisti fra loro secondo un ordine di grandezza affidato all'inventiva del lettore. Lo scrittore rivendica un'affinità elettiva con i naviganti solitari con quanti affrontano il mare con la tempesta magnetica dei sognatori. E in tiempo sido admire de manera ciega estos hombres admire su valor el desprendimiento en che se dejan ir entre mari cielo entregados a si mismo e al fortuna che tanto protegge a los audaces come friamente los elimina e a un hoi reservo a questi naviganti un rincón di mia alma. Verdad è che admiro a todo aquel che si attreva a lo che io por mi parte sono incapaz di fare però questi naviganti mi merecen una estima especial sia non sia io descendiente di un pobo di marineros. Il viaggio eritruoso del protagonista dell'anno della morte di Riccardo Reis un etteronimo di Fernando Pessoa e del protagonista di tutti i nomi sconcerta la plausibilità dell'inventiva umana quando ristagna nei contrafforti di un'emotività incondizionata soggetta alle idiosincratiche straneazioni degli esseri senza fissa dimora maschere peregrine del motondoso dell'esistenza. I quadernos de Lanzarote adombrano un'autobiografia redatta con un levigato compiacimento nei riguardi degli avvenimenti nei quali l'osservazione dell'autore appare quantomeno providenziale. Nel manuale di pittura e calligrafia considerato dalla critica un libro cerniera si rinvengono quelle allegorie della realtà che nascondono come in una terra chiamata l'integgio l'inconsistenza genetica di un'epoca caratterizzata non soltanto dalla inesorabilità del potere tutore ma anche dall'inceppata facondia dei suoi animatori. L'arcaismo della società agraria di una terra chiamata l'integgio si confronta con l'enfatizzazione delle personalità presenti nel manuale di pittura e calligrafia che anticipano l'epoca della concorrenza e del successo economico forviando le traiettorie concettuali di un immaginario visitatore dei luoghi della memoria e della testimonianza estetica fra i quali Siena. La dinamica dell'insoddisfazione si esplica con diversi effetti stilistici nel memoriale del convento e nella zattera di pietra che trova nel viaggio in Portogallo una sorta di antefatto logico. Cicità è il romanzo della conversione dell'autore ai limiti perimetrali della condizione umana. La sorgente propensione dell'essere per la sopravvivenza e la degradante strinsecazione del primigenio rendono il romanzo propedeutico un'ulteriore immersione da parte dello scrittore e del lettore in una temperie perpiziatrice di effetti medianici e tentacolari. La disinvoltura con la quale spesso si è voluto affiancare a quest'opera di Saramago e l'informe sovresiegos di di Ernesto Sabato non si concilia con una probabile specularità della stessa opera con la produzione di Céline che utilizza la rocambolesca intrusione della scrittura nell'ordito concettuale a salvaguardia di quella follia imitativa nella quale si spengono o si attutiscono le irrefrenabili pulsioni del primigenio. Ed è questa constatazione la presenza del primigenio nella vicenda dell'Occidente che costituisce il tessuto connettivo della ricognizione compiuta da Saramago nell'anfiteatro della modernità. Mentre in Céline il male ha una conformazione alchemica e dionisiaca in Saramago è un interrogativo religioso nell'intento da parte dei locutori di esorcizzarlo con il solvente scenico della ragione. L'afflizione della tecnica secondo la demoniaca concezione di Martin Heidegger induce lo scrittore a saldare l'immaginazione nel presente manifesto per tema di considerare irrimediabile la fuga nel buco nero dell'universo non soltanto dei corpi celesti come la terra ma anche delle idee e dei propositi che il tempo dei mortali rende propedeutici al ricordo e alla memorazione. Lo scrittore vorrebbe salvare i convincimenti del presente mediante il fortilizio ideale dell'oblio. La salvezza dell'immaginazione si rende precipua nell'opera di riflessione propiziata da storici come Tertuliano Maximo Afonso il personaggio dell'ultima opera di Saramago in questi giorni in libreria in lingua portoghese. L'abilità evocativa del collasso cosmico da parte di Saramago lascia presagire la presenziale consapevolezza dell'umanità contraddicendo proprio quanto è scientificamente prevedibile di una mutazione genetica della stessa umanità che la renda forse insensibile al suo annientamento. L'imponderabile leggerezza dell'essere a differenza di quella descritta da Milan Kundera in Saramago è gravata di riscontri che dal presente si orientano verso il passato nella speranza di sottrarsi all'incestuoso connubio con le latenti energie dell'universo. A parte l'estrovezione romanzesca il professor Tertuliano Maximo Afonso forse conoscendo gli esiti dilemmatici dello storicismo una corrente di pensiero professata in Italia da Benedetto Croce non esita a rinverdirlo con i solventi plastici dell'attualità. Del resto l'attendibilità della narrazione non è necessariamente soggetta ai rigori della congruenza e della conseguenzialità concettuali. La consapevolezza del declino e della fine degli emisferi del cosmo infatti è tale finché rimane un'eventualità che può essere presagita ma non attualizzata. Il male che serpeggia nella storia è da sempre interagente con il bene secondo una drammatica ma fertile coniugazione di intenti le cui finalità sfuggono quasi interamente alla comprensione umana. Ma il romanzo che evoca un'epopea capace di conferire un significato più o meno permanente alle afflizioni umane e di connotarle come il peristilio della comprensione dell'esistenza è il Vangelo secondo Gesù. L'atmosfera in apparenza soporifera e in effetti incandescente della regione del Mediterraneo nella quale gli evangelisti propaleranno il messaggio cristiano concorre ad assicurare alla dialogazione un circuito emotivo difficilmente redimibile dalla contenuta ma possente esigenza della liberazione razionale. Lo scrittore sembra impegnato in una storia pervasa dalla nostalgia e dal dolore che malinconisce i criteri persuasivi del ragionamento. Gli accadimenti peraltro conosciuti si trasformano nella dilemmatica configurazione di un racconto biblico che affascina e contamina l'intelletto al quale è richiesto di farsi forviare da un'antica e consolidata traiettoria ideale che abbrate i miti e le fantasie presenti nella vicenda di tutti i sodalizi comunitari da quando la memoria sembra prediligere gli accorgimenti visivi uditivi tattili per ripristinare surrettiziamente il remoto e il recente passato della specie. L'emisfero cristiano di Saramago è un aspetto di quello canonico che condiziona il pensiero dell'Occidente dalle sponde del Mediterraneo fino alla mita dell'Europa e al Nuovo Mondo con le divaricazioni e le modificazioni diffusionali che ogni grande evento della storia dell'umanità comporta. Rimane tuttavia una costante sentimentale che si traduce nell'accettazione e per converso nella compromissione mediante la quale le asperità dell'esperienza individuale e collettiva si estrinsecano nella turbinosa vicenda dei popoli e delle nazioni. La sudditanza che una credenza del genere comporta per essere scalzata dal circuito cognitivo della razionalità deve affrontare la problematica di Saramago contenuta nelle opere teatrali come La seconda vita di Francesco D'Assisi e In nomine dei pubblicati tra la fine degli anni settanta e i primi degli anni novanta. L'epopea di Gesù rappresenta la rimozione del complesso di colpa che connota e condiziona la cultura occidentale mediante un'accorata accettazione delle idiosincrasie e dell'inventiva del genere umano. L'uomo è coerente con i suoi propositi d'azione anche quando si affida contrariato e sgomento ai dettami di Dio. L'atteggiamento iconoclastico di Gesù è surclassato dalla piena miracolosa portentosa di Dio e del diavolo. Entrambi questi ultimi esorbitano dalle loro funzioni didascaliche per esercitare con irruenza ferina il potere tutorio che Gesù non riesce a comprendere che comunque vorrebbe tradurre nelle meno apoteosiche concezioni della resipiscenza individuale e dell'equità collettiva. Il mordente dialettico della narrazione è talmente surriscaldato da rendere interconnesse le domande e le risposte anche quelle per le quali si registra la sorpresa di Dio. Gesù si proclama figlio di Dio dopo aver avuto con il supremo reggitore dell'universo alla presenza del diavolo un colloquio chiarificatore circa la sua identità il suo compito terreno e le aspettative celesti. Riconosce nella finzione scenica di un incontro su un'imbarcazione affogata in una coltre di nebbia che la esclude dallo sguardo indiscreto dei pescatori della riva una sorta di prova generale delle potenze divine e demoniache definite peraltro complementari e speculari. Dio rifiuta la richiesta del perdono da parte del diavolo che dichiara la propria propensione ad allinearsi con gli altri angeli per celebrare la gloria del creatore dell'universo e afferma la sua convenienza ad avere un interlocutore al negativo un oppositore dal quale assicurarsi a contrario i servigi richiesti agli innumerevoli peccatori. Dio ritiene di dover ricevere il sacrificio di migliaia e migliaia di uomini e donne perché la sua causa redentrice abbia effetti permanenti. L'occasionalità del male è una parvenza allegorica delle sue potenzialità remissive. egli sa quanto accadrà nel mondo può rivedere al rallentatore quanto ha già deliberato e tuttavia ora chiede di essere assecondato confortato dalla responsabile adesione dei suoi adepti primo fattuti del figlio Gesù immolato sulla croce. Il potere e tutorio di Dio si esercita nella severatività del comando. Gesù ha il compito dell'evangelizzazione del convincimento a lui spetta il ruolo del divulgatore della verità che essendo amara deve compendiare le antiche credenze le profezie e le speranze diffuse nell'umanità come un sortilegio da quanti non conoscono i progetti di Dio ma li immaginano con la benevolenza propria dei sottomessi nei confronti dei tutori. Gesù elargisce speranze connotandole dei benefici immediati i miracoli che servono per incrementare da una parte la fede nella rigenerazione e dall'altra il sentimento di giustizia necessario per consentire ai reprobri di riscattarsi e ai probri di convalidare i principi ispiratori della loro perseveranza. Il figlio dell'uomo è impegnato in un'opera di conversione dei consolidati canoni del timore ancestrale in quelli controvertibili della coerenza e della responsabilità che si evincono dall'armonizzazione del convincimento e del comportamento. L'estemporaneità dell'episodio si concilia formalmente con l'idea che i lettori hanno dell'onnipotenza divina ma è la nebbia che confonde le menti e le rende retrattili a ogni sorta di spiegazione. I discepoli e i seguaci di Gesù attendono da oltre 40 giorni che lo scenario si normalizzi per poter prendere il largo con le barche e pescare. Il popolo di Gesù è contrariato sia dall'esclusione della vista di Dio sia dalle sue parole chiarificatrici circa il destino delle moltitudini chiamate a immolarsi per il volere di un giudice inflessibile depositario della conoscenza dei fatti del mondo al quale sembra competere la funzione di contrapporsi agli dei falsi e bugiardi dei romani di combatterli sul piano religioso con la spada oltre che con la parola. E infatti Gesù sorprende i suoi seguaci quando riferisce in modo brusco ed essenziale il significato non il tenore del colloquio con Dio e con il diavolo alla diffusione della buona novella sembrano fare scontro la sfida fisica la resistenza e la denuncia. Per questa ragione egli ritiene che il tempo dell'azione vada provocato con un atto che attenti all'autorità imperiale romana e che con opportune invettergi verso azioni tessicali si compie all'inevitabile il calvario e la croce. Gesù di Nazareth figlio del falegname Giuseppe anticipa ai presenti la loro sorte essa segna cronologicamente il passaggio dalla fase predittiva che si conclude con il battesimo di Gesù alla fase operativa durante la quale il destino dell'uomo e quindi del mondo assume una rilevanza maggiore che nel passato in quanto finalizzato al conseguimento della rigenerazione perché il tempo si compia è necessario che il Tempio accusi Gesù e che le autorità romane si sentono in qualche modo insidiate da una personalità che proclama essere il re dei giudei e di non riconoscere alcun'altra autorità all'infuori di quella inerente alla tradizione e alle previsioni a lungo memorare. Gesù, re dei giudei è un antagonista dell'impero di Roma un servitore dell'ordine costituito un sovvertitore dell'ordine costituito nel quale le diversità comunitarie trovano la loro legittimazione secondo il principio federativo nella compromissoria utilizzazione del centro e della periferia secondo un ordine di fattori deputati alla salvaguardia della Pax Romana. L'opera di persuasione di Gesù è perentoria non concede alternative e non riconosce alle umane debolezze dei suoi seguaci alcun vincolo con il buonsenso e l'amor proprio. Gesù che nel passato nella stagione dei prodigi è anche prodigo di spiegazioni sebbene contratte nel ripensamento che gli fa di ogni decisione subordinato alla volontà celeste dopo il mistico colloquio del Gange assume un'autorità difficilmente conseguibile con il consenso degli astanti ai quali è dato il compito di rappresentare il prossimo un'entità astratta destinata a glorificarsi in un ambito mentale finora a tutti estranei. Le potestà terrene così incombenti e per certi versi venerande non si contendono più nella concezione di Gesù il compito di dirimere i mari del mondo esse sono in preda all'inquietudine sono svilite dalla tarassia e dalla condiscendenza il regno dei cieli non è affare che possa essere condizionato dall'impresa umana i propri e i repropi sono commisti nella falsariga imposta dai tutori dell'ordine politico in relazione spesso satanica rispetto all'ordinamento religioso le disquisizioni sulla virtù eroica del popolo di Dio sono secondarie in rapporto alle risoluzioni intervenute alla vigilia dell'atto conclusivo della traversia terrena di un'umanità sconcertata dei segni obliqui della forza e dell'irrisolutezza Gesù non sa neppure rispondere alle domande dei suoi seguaci alcuni come Giuda Iscariota sono chiamati a svolgere un ruolo che sembra loro in stridente contrasto con la concezione salvifica di Dio ma il copione impone di redigere la trama della storia terrena a futura memoria a consolazione di quanti emendati dal peccato originale si potranno salvare senza cedere alle lusinghe dell'attesa e della speranza alle quali gli innumerevoli messaggi profetici inducono a credere le generazioni del passato l'incipit di una rinnovata traiettoria del mondo si inaugura con il soddisfacimento dei disegni di Dio il primo capoverso della storia che ampia le dimensioni mentali dei mortali si identifica con l'esperienza terrena di Gesù che si conclude sulla croce ai piedi della quale si abbandonano sommessamente al dolore e al rimpianto Maria di Magdala e Maria di Nazareth rispettivamente compagna e madre del Redentore sono presenti anche altre Marie i cui tratti sembrano pregiudicare nell'iconografia dell'evento i connotati nostaldici della pietà e del conforto sebbene tutte siano addolorate abbiano una ragione per trovarsi insieme in uno scenario che sconcerta l'immaginazione nell'iconografia che rappresenta il dramma della croce il pubblico è quasi sempre invisibile perché è enfatizzato dall'allegoria del sacrificio la rappresentazione iconografica include anche un uomo che cerca di alleviare la seta dei morituri con una spugna imbevuta di acqua e aceto la crocefissione è una categoria propositiva della condizione umana la croce è il preliminare dei criteri pratici con i quali misurare i corpi stabilire le distanze disegnare la morfologia degli enti che concorrono a dare consistenza genetica alla realtà la sovrapposizione di due assi certifica le coordinate dell'intendimento umano anche nella sua fase esemplificativa dell'afflizione l'analfabeta firma infatti con il segno di croce con il simbolo di una potestà rimandata che attende il sussidio di volontà che si alternano nella vicenda terrena o che promettono il conforto celeste ed è questa aspettativa che si rende sempre più difficile per la consapevolezza umana di poterla disattendere senza subire il discredito della redenzione l'immagine edenica funge da criterio compensativo dell'insuccesso terreno della sperimentazione terrena secondo l'icastica definizione di Robert Musil dell'uomo senza qualità la mondanizzazione dell'esistenza comporta la laicizzazione degli statuti della conoscenza e l'autodeterminazione individuale l'esordio delle generazioni che affrontano le sfide della modernità si identificano con il proposito di modificarla per le esigenze del genere umano il luminoso e il provvidenziale della storia si manentizzano nell'impegno politico nella nuova alleanza direbbe Elia Prigogine degli uomini con Dio la liberazione dalla tirannia divina si esplica nella ribellione contro l'associazione al potere tutori come sostiene Harold Toynbee le periferie degli imperi sono i luoghi delle rivolte contro l'uniformità e l'omologazione nel discretito delle norme di convivenza delle varie etnie e nel confronto anche linguistico fra le comunità della giudea e l'autorità imperiale l'apologetica del dialogo assume una rilevanza ermeneutica tale da far confondere gli interlocutori da rendere pregiudizievole ogni convincimento non confortato dalla pacata razionale di squisizione al racconto di Seramago sulle fobie di Erode fanno riscontro le caliginose pagine di Mikhail Bulgakov del Maestro e Margherita sul colloquio fra Pilato e Gesù in entrambe le elaborazioni si intravede il proposito di scagionare in parte l'inadempienza del Redentore con una drammatica protesta nei riguardi di Dio le orme dei sandali di Giuseppe ormai sacrificato alla causa della rivoluzione contro il potere romano rappresentano per Maria il segno di un proposito realizzato a metà per scagionarsi dal debito di solidarietà contratto quando pur di salvare suo figlio dalla persecuzione amicida di Erode egli rinuncia a compiere un atto umanamente dovuto avvertendo del pericolo i genitori di decine di vittime innocenti il percorso compiuto da Maria in cerca del marito è reso possibile infatti dall'attrazione del fuoco dall'ancestrale richiamo degli incendi che adombrano la fine e la purificazione il preludio di una nuova stagione dei mortali si identifica con la ricusazione dei benefici celesti l'eredità terrena di Gesù sono i sandali che gli ricupera dalle spoglie mortali del padre sebbene consumati e coperti di polvere essi costituiscono un incitamento per l'avventura che il figlio del faligname si appresta a realizzare nella terra della Galilea ma prima di affidare al sortilegio della parola il significato del suo ministero Gesù assicura al padre una sepoltura compiendo così la profezia il figlio dell'uomo seppellirà l'uomo ma egli stesso rimarrà insepolto il prodigio di tronchi tagliati che ridiventano alberi fa d'accesura alle antiche credenze forse sorregge il pensiero indagadone l'evento destinato a smarrirsi nelle evocazioni del futuro si perderà nel tempo la memoria collettiva vanifica le interazioni individuali per salvare le suggestioni che esercitano nelle generazioni i riferimenti o le elusioni a eventi considerati memorabili dal sodalizio umano nelle diverse conformazioni sociali e istituzionali le connotazioni dell'esperienza non sfuggono al calcolo mentale di Gesù ma è la precarietà della causa che la determina a rafforzare in lui l'aspirazione verso il padre nel quale si identifica il compimento dei tempi egli si convince della necessità di lineare un principio esplicativo della realtà ribaltando progressivamente i consolidati significati delle parole la parabola e la reiterazione lo sorreggono in un'impresa volta a mobilitare le coscienze e a corroborare la ragione il suo impegno consiste nel conferire un grado di coerenza e conseguenzialità agli atti compiuti responsabilmente sia a livello individuale sia a livello collettivo il percorso nel deserto compiuto per rinvenire la pecora smarrita è all'origine di quel modo di vedere la realtà dal quale Gesù si ripromette di estirpare la gramigna le piante che insidiano la fertile prioritativa della catena degli esseri la sorpresa è una manifestazione della fede e dell'angoscia esistenziale un modo di vedere le cose secondo il principio dell'imperscutabilità della creazione la malinconia sfiora come i ricirri l'aria smaltata del mattino i pensieri di Gesù a tratti sorpreso dei suoi poteri divinatori ma l'emancipazione delle moltitudini promosse da Gesù si estrinseca nel corso forzoso dell'intelligenza svolto con immediatezza e inesorabilità la difesa della persona la ricognizione delle sue propensioni fideistiche conoscitive si interconnettono fra loro in modo tale da suggerire drastiche soluzioni il vaticino della fede serve per memorizzare l'incomprensione dei significati reconditi dell'esperienza alla lapidarietà perviene anche Maria quando si preoccupa di riprovare Gesù per testimoniargli la sua comprensione una eventualità così difficilmente convertibile nel convincimento da allinearsi nella finzione letteraria all'approbatoria efficacia miracolistica di Gesù l'idea che Dio abbia bisogno di Gesù attrae come un idillio e corrode come un'insidia demoniaca il luminoso che abbacina le menti si esplica nelle imponderabili congestioni degli esseri con l'universo la tempesta magnetica che affligge i naviganti e i parenti a terra consiste nella naturale omilia della morte nel dileggio di tutte le umane resistenze nel trionfo della suprema bizzarria dell'universo il cantiano sgomento di fronte al cielo stellato si rifrange nelle acque tormentate dal vento impavido dalle turbe energetiche che dissociano gli esseri e le cose ed è difficile distogliere lo sguardo dalla deformazione degli elementi senza istintivamente interrogarsi circa il limite delle premonizioni e l'oggettiva esiguità delle previsioni l'imponderabilità del potere decisionale si manifesta in tutta la sua risolutezza di fronte al pericolo quando i mortali sentono vicino la fine la loro ribellione si esplica nel riscontro della fede nell'esercizio di un calcolo spirituale che ha come corrispettivo il premio terreno il potere assume indilazionabili forme di drammaticità che nell'opinione corrente può essere attenuata soltanto dalla comunità di intenti la solitudine individuale e l'entusiasmo collettivo paradossalmente si coniugano fra loro per illudere o convincere i membri delle comunità sociali ad affrontare l'esperienza quotidiana i prodigi si diffondono con il vento la vaga speranza e la flebile aspettativa di una mutazione del mondo di vedere la realtà e di ordire gli inganni necessari per avvantaggiarsene concorrono a rendere più accetto il ruolo del Redentore le moltitudini le turbe dell'epoca di Gesù si avvalgono del diritto di assentire o di dissentire secondo un ordine di fattori che trovano nella congruenza la loro legittimazione Gesù confessa di aver visto Dio e di essere nello strumento terreno le moltitudini per la prima volta credono per la suggestione che genera la vista fino ad allora la tradizione profetica si è servita dell'udito dal momento della confessione di Gesù agli amici Giovanni Giacomo e Andrea la testimonianza visiva assume un rilievo di primaria importanza fino a determinare nel rinascimento italiano e nell'ottica il principio euristico di una rinnovata concezione del cosmo e come si è mostrato Dio ai tuoi occhi domandò Giacomo come una nuvola una colonna di fumo non di fuoco no non di fuoco di fuoco la vista inaugura l'avventura degli spazi aerei alla glorificazione celeste fa riscontro l'ambizione umana di percorrere gli emicicli del cielo per annoverarli fra le possibili esperienze del genere umano la drammaticità della vicenda terrena dell'umanità si vince librandosi nell'aria la prospettiva pneumatica degli esseri li concilia con quanto li apparenta visivamente con l'eternità per James Joyce afferma Asman l'orecchio è un organo passivo che permette l'ingresso delle impressioni sensibili immediate gli occhi sono liberi di ricostruirsi un loro oggetto la testimonianza oculare si configura pertanto come una prova della veridicità di un assunto indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata la perspicacia trova un contraforte nell'effigie in un effetto visivo che non può essere denegato senza perdere incredibilità la vista inoltre consente la riserbatezza e l'intimità Sant'Agostino si sorprende infatti di vedere Ambrogio vescovo di Milano leggere i privari in silenzio la strategia delle riflessioni si esplica nello sguardo nella dinamica della vista che accorcia le distanze e consente alla preghiera sottaciuta di raggiungere simultaneamente le campate del cielo perfino le apparenze sorreggono i convincimenti che preludono alle dimostrazioni e quindi alle istanze rivendicate in nome dei sacri principi della fede della benegrazione e della solidarietà l'insoddisfazione alimenta le congetture che si traducono empiricamente nelle concrete realizzazioni ma è l'astrazione che soggioga le menti e le induce a calcolare con istintivo e precisione i risultati che si possono conseguire sia sotto il profilo teorico sia sotto il profilo pratico il regime della redenzione quindi si esplica in due direzioni in quella allegorica della glorificazione celeste e in quella funestata dal dolore che compendia l'avventura terrena la convenienza sebbene ne caratterizzi l'epilogo non può precostituirsi a ogni forma di argomentazione la fede implica una sorta di rassegnata simulazione che però si dipana come la nebbia al sole quando gli esiti dell'impresa mentale possono avere sia pure una parvenza di gratificazione etica il peccato contraddistingue la vicenda terrena per l'inadeguatezza anche fisica tra quanto l'intelletto è in grado di elaborare e i sensi in grado di attuare il peccato è nelle semplificazioni dei due termini dello stesso dilemma che consiste nel rendere accettabile l'esistenza secondo un metro onnicompensivo che in apparenza e paradossalmente si evince dall'egoismo e dalla ipertrofia delle singole individualità tutto ciò che è palese nel mondo non trova il conforto endemico nelle singole persone impegnate a preservare il senso delle cose ed a crescerne il valore Gesù riconosce di essere impegnati in un'impresa che ha come finalità il convincimento e che il convincimento per volontà di Dio si esercita perfino trasgredendo le norme che la morale corrente considera ineludibili ed edificanti Dio afferma di essere il tempo e quindi di non soggiacere alla cronologia imposta dai mortali ai loro atti secondo una successione logica o dilatoria ma sempre conseguente con il prima e il dopo di un'espressione della mente o di un gesto che faccia d'ente di separazione fra due classi di opere e di intenzioni nell'elenco di coloro che dovranno testimoniare con la vita la fede in Dio compare anche Anzano di Siena le parole degli uomini sono come le ombre nascondono i presagi e gli intendimenti interlineano i pensieri ai nomi corrispondono le persone che si appellano al loro significato nell'intento di renderlo pertinente alla maestà dei propositi con i quali si inavvissano nei pletti del tempo e affiorano come il Gaudiana alla superficie della comprensione grazie ringrazio molto il professor Campa per questa sua ricchissima laudazio e è arrivato il momento fatidico del conferimento della laurea onoris causa maestro prego di alzarsi perché il momento è solenne con i poteri che mi sono conferiti dalle leggi dello Stato e dell'ordinamento universitario italiano io dichiaro il maestro José Saramago dottore in lingua e cultura italiana prego di accomodarvi tranne il maestro dottore in lingua e cultura italiana e do la parola per la lezione doctoralis che anticipo per averla letta essere bellissima e importante anche per comprendere la visione del mondo di José Saramago rivolgendo anche un ringraziamento per la traduzione che c'è stata rapidamente approntata da parte della traduttrice di traduttrice di quasi tutti i testi in italiano di Saramago cioè di Rita Desti e naturalmente è un ringraziamento a quella che poi ha consentito questa questo contatto come anche ci ha aiutato in tante altre per tante altre piccole questioni relative all'organizzazione di questa di questa cerimonia e cioè la professoressa Maria Antonietta Grignani alla quale pure si rivolgono a parlare lascio ora la parola senz'altro al dottor José Saramago che ci parlerà di dimenticare il buco nero della galassia umana Antes de antes de ler o o texto que vos trago que queria enfim agradecer de modo geral de modo particular falo no final da leitura e sobretudo a notável comunicação do professor Campa que tenho que dizer che vou viver de una forma impaciente as horas deste dia che che terei di passar antes de poder ler detidamente con toda a atenção palavra a palavra aquilo que o magnífico texto que o professor Campa nos fez ouvir aqui o italiano não é tão o italiano que não existe ou a minha capacidade de compreender o italiano não é tão ampla que me tivesse permitido compreender na sua subtileza e na sua perspicácia tudo aquilo que foi dito mas aquilo que eu entendi ou creio ter entendido digamos abriu-me o gosto impaciente de poder ler o mais rapidamente possível o seu texto de forma de forma que espero que me ofereça antes da hipótese do Big Bang ter vindo revolucionar a ciência astronómica já toda a gente nestas áreas culturais do mundo sabia como havia aparecido aparecido no céu a Via Láctea mais tarde também chamada Caminho de Santiago pelo cristianismo permita-se-me que aqui recorde o insigne prodígio depois de haver feito um filho alquimena Zeus o pai dos deuses que para esse procurador designio havia tomado a figura e o lugar do marido dela o rei tebano anfitrião de meu conhecimento foi este o primeiro caso de duplicação genética antes das modernas e ainda mal experimentadas técnicas de clonagem humana Zeus dizia eu levou a criança acabada de nascer para o Olimpo e após lhe ter dado o nome de Heracles entregou-a aos cuidados de Hera sua terceira esposa para que a amamentasse e cuidasse conta-nos a dourada lenda dos mitos que os ciúmes da protetora dos matrimónios e dos nascimentos assegaram a um ponto tal que decidiu introduzir duas serpentes no berço do menino Heracles com a esperança de se ver livre do importuno que a toda hora nada mais que pela sua simples presença lhe fazia lembrar a recente infidelidade do volúvel esposo sabemos o que veio depois Heracles estrangulou as serpentes com as suas pequenas mãos e Hera não teve outro remédio que resignar-se alimentá-lo ao seio eternamente túrgido de leite que era o seu parecia que a paz se havia instalado no Olimpo que o universo se deteria na contemplação do quadro entornetcedor mas não foi assim além de ter demonstrado logo aos poucos dias de vida ser um esperto matador de serpentes Heracles era violento de natureza e como viria a comprovar-se mil vezes na idade adulta um comilão de primeira ordem esfaimado sequioso lançou-se o peito de Hera com tal fúria que a pobre deusa talvez por medo de ser devorada em vida lhe tirou o seio com um movimento brusco o que teve como consequência saltar o leito para os espaços siderais jorrando como uma alva cascata que no mesmo instante começou a transformar-se em miria desplantecente estrelas levando atrás de si cada uma delas o seu correspondente e majestoso cortejo de planetas que ainda que o não pareça hoje do mesmo leite estão feitos como todos sabemos o relato da formação mitológica da Via Láctea é totalmente omisso quanto à existência de qualquer buraco negro no interior da galáxia mas isso é facilmente compreensível e explicável o mundo encontrava-se então na sua primeira ingénua juventude ainda tinha poucas coisas para recordar e portanto ainda poucas coisas para esquecer consinta-se-me agora que antes de prosseguir este discurso tente aprofundar um pouco apenas ou de leve e de modo muito sumário a análise da importantíssima questão dos buracos negros dos passos rugando desde já que me sejam perdoados os mais prováveis erros imprecisões ou falhas próprios afinal de contas de quem não só está muito longe de ser mestre na disciplina como nem sequer a um modesto título de aprendiz ousaria aspirar o primeiro ponto a salientar é que ao contrário do que julgávamos saber desde que era deixou escapar do seu divino seio o leito luminoso que continua a girar sobre as nossas cabeças existe de facto um buraco negro no centro da Via Láctea isto é aquele magnífico resplendor que desde o começo do mundo deu origem a tantos arrebatamentos místicos a tantos desafogos líricos tem no seu interior um monstro insaciável que um dia quem sabe engolirá os nossos mais longínquos descendentes até ao último nascido aquilo que já nos habituámos a designar por buraco negro socorro-me de informações correntes das que estão ao alcance de qualquer curiosidade gera-se quando a concentração de massa é tão grande que a gravidade se torna quase infinita o que faz que os átomos se apertem e achatem tanto uns contra os outros que a própria matéria deixa de existir como tal o nosso velho enorme sol tem uma massa 330 mil vezes maior que a da terra mas a massa do buraco negro como fomos contemplados pela lógica distributiva do universo é de acordo com os mais ajustados cálculos científicos aproximadamente 3 milhões de vezes a do sol é verdade que este estranho monstro gravitatório que devora tudo quando lhe cai nas entranhas dizem os físicos que nem a própria luz lhes escapa se encontra muito longe de nós a mais ou menos 26 mil anos luz da terra mas se para algo ainda nos serve a faculdade de imaginar que com tanto trabalho conseguimos adquirir apliquemos o momento a pensar nas 340 estrelas que agora mesmo estão girando à velocidade de milhões de quilómetros por hora ao redor do buraco negro da Via Láctea e que uma a uma como a muitas outras sucedeu antes para dentro dele se precipitarão sem que alguma vez se venha a ter notícia delas tardarão ainda provavelmente milhares ou milhões de anos a serem engolidas pelo monstro mas esse será o seu irresistível e catastrófico destino a massa do buraco negro que atualmente está comprimida numa bola com raio de somente dez dias luz crescerá com a contínua incorporação de novos corpos celestes a sua força gravitacional aumentará estrelas que agora ainda se encontram a salvo serão sugadas implacavelmente pelo vórtice até que por fim soará a hora do nosso sistema solar entraremos para sempre no silêncio e no esquecimento do universo o será esmagado como uma laranja demasiado madura que deixámos cair ao chão ninguém saberá de nós ninguém saberá que havíamos existido desaparecerão os próprios deuses criados pela necessidade pelo medo e pela imaginação poética da humanidade e então e se então ainda algum ruído puder ser percebido no espaço será só o do buraco negro triturando as palavras que escrevemos as telas e os muros que pintamos as partituras que compusemos os mil sistemas filosóficos que elaboramos e que afinal não tinham razão os trabalhos e os dias as fadigas e as alegrias as guerras que se ganharam e as outras que se perderam a precária paz a esperança e o desengano numa palavra a história sim a história essa mesma que havendo sido concebida e cultivada como uma espécie de máquina de recordar como um bastão de cego para amparo da frágil memória humana que as prosaicas e mecânicas comparações me sejam desculpadas está a ser hoje transformada à nossa vista e perante a apática indiferença da maior parte de quantos têm por missão ensinar e por obrigação aprender na mais eficiente e destrutiva máquina de esquecer direi porquê essa história que tantas vezes explica os acontecimentos do passado em um tom de fria neutralidade que quase sempre pretende fazer passar por visão objetiva dos factos como se tais acontecimentos se referissem a uma outra humanidade que não a nossa como se a circunstância de terem vivido noutras épocas tivesse feito dos nossos antepassados habitantes de outro planeta é também a história que simultaneamente com uma voracidade que imaginam em tudo semelhante à do buraco negro da galáxia vai engolindo e fazendo desaparecer cada instante do presente sem nos deixar tempo a refletir no que sucede à nossa volta vítimas portanto nós e a história dos sistemas e redes de comunicação de massa vigentes que logram por meio de uma multiplicação artificiosa dos sucessos obscurcer a realidade subjacente enquanto ao mesmo passo vão escamuteando e desvirtuando os dados informativos que os poderiam talvez tornar inteligíveis o processo de esquecimento do passado é no presente que começa permita-se-me agora uma breve excursão e um momento particular desse passado aquele já distante século XVIII em que viveu e floresceu um gramático francês Nicolas Bozet se chamava eu que manifestou sobre a ideia de presente umas quantas ideias que não sendo como já se vai ver de uma clareza meridiana aspiravam a uma expressão totalizadora do presente esse escorregadia o conceito que constantemente se escapa aos tranquilizadores enquadramentos do senso comum como ter-se escrito num dos melhores dicionários da língua portuguesa que o presente é comas o período de tempo de maior ou menor duração compreendido entre o passado e o futuro como gramático mas também como metafísico que provou ser Nicolas Bozet não se resignava a aceitar uma definição unívoca exclusiva de presente talvez porque o angustiasse a impossibilidade de encontrar a resposta para uma das mais inquietantes perguntas que o ser humano pode fazer a si mesmo onde estou eu quando estou no presente quer fosse esse ou não o motivo da sua aventurosa especulação o certo é que se deu ao ingente trabalho de elaborar um conjunto de designações segundo o qual o presente se deveria distinguir em presente atual ou propriamente dito vejo escrevo presente anterior empregado para o passado presente posterior empregado para o futuro presente geral ou indefinido empregado para definir proposições da verdade eterna presente simultâneo fico contente quando te vejo presente passo o verão no campo e o inverno na cidade etc de acordo com os nossos científicos critérios e nomenclaturas a utilidade de uma tal classificação ainda que de inegável engenho é mais do que problemática altamente duvidosa no entanto se não abuso demasiado do que creio ser o sentido geral da proposta de Nicolas Pouset ela conduz-nos à conclusão paradoxal de que no fim de contas todo o tempo seria redutível aquilo que não obstante perplexidades como a manifestada na definição dicionarística antecitada nos acostumamos a designar por presente ora coincidindo como viria a descobrir muito mais tarde com certas doutrinas filosóficas hindus que negam a existência do presente atribi-me a pôr algumas vezes em dúvida em dúvida a existência de algo a que fosse lícito chamar assim por mais tempo que a própria palavra e já seria conceder muito levasse a ser pronunciada aceitava e aceito que por conveniências práticas de comunicação non tenhamos outro remédio que utilizar uma noção de um presente entendido como o que estiver ocorrendo em cada agora em que nos encontremos aliás também esse o agora dificilmente determinável se pretendêssemos tomá-lo como sinónimo exato e perfeito supondo que os haja de presente em todo caso devo deixar claro que o que sobretudo me interessava em todas estas considerações era questionar a minha relação pessoal com o tempo e nessa não encontrava nem encontro lugar se não para um passado o tempo vivido e um futuro o tempo por viver o presente não seria portanto se não um cursor deslizando ao longo de uma escala aceita-se a metáfora caracterizado precisamente por ser inapreensível não mensurável nada mais que um ponto móvel e infatigável uma luz que correria para a obscuridade do ainda não vivido enquanto atrás de si iria deixando não outra obscuridade mas essa indecisa penumbra a que chamamos de história para dentro da qual como as estrelas sugadas irresistivelmente pelo buraco negro da via látia se vão precipitando uns após outros sem pausa sem interrupção os instantes esses átomos de tempo de que são feitas as vidas humanas na realidade não é indiferente que usemos a palavra passado ou a palavra história é certo que tanto uma como a outra se referem ao tempo que foi àquilo a que antes chamei tempo vivido mas não tenho dúvida de que nenhum historiador por maior e mais medida que fosse a sua ambição cometeria o erro imperdoável de dar a um livro o título de O Passado de Siena quando de uma história de Siena se tratava simplesmente melhor que ninguém ele sabe que todas as histórias possíveis estão contidas no passado a maior parte delas por escrever e que nunca chegarão a ser escritas ele sabe que o passado é o nome corrente que damos ao que eu preferiria chamar tempo informe e que a tarefa que lhe cabe como historiador é precisamente a de transformar esse tempo sem forma em história que sempre nos será transmitida como aquilo que de facto é uma parcela organizada do passado uma escolha uma seleção uma antologia um ajuste de factos e circunstâncias à história não lhe resta outra solução que tomar a parte pelo todo e já é muito de lhe agradecer a honestidade quando se nega a justificar o todo pela parte quanto ao presente esse que com mais comodidade poderíamos definir como o tempo em que estamos vivos a sua desculpa favorita consiste em proclamar por todos os meios e em todos os tons que bem gostaria de ser diferente que a responsabilidade das suas faltas e dos seus erros pertence toda ao passado ou com mais retórica à história a qual entendida tão abusivamente não seria mais que um outro nome da fatalidade do destino da determinação original é já um cansado lugar comum dizer-se que o passado nos ajuda a entender melhor o presente que o que aconteceu ontem é o que nos dá as razões e as causas do que está a acontecer hoje mas eu embora aceitando a parte de verdade que haja na aceração penso que é chegada a hora de exigir ao presente que comece a explicar-nos o passado se estamos irremissivelmente condenados a cair nos buracos negros da galáxia e do esquecimento absoluto ao menos que não o façamos de olhos fechados tereis ouvido bem tereis realmente afirmado que este presente que somos poderia e deveria explicar o passado que outros foram que hoje poderia e deveria para usar esta expressão coloquial pôr o ontem no seu lugar assim é e agora apenas será necessário demonstrá-lo para o que me socorrei da ajuda de um modestíssimo professor de história chamado tortuliano máximo afonso personagem de um romance saído a público há poucos dias e do qual sou autor defendo o dito professor a arriscada ideia de que o ensino da história não se deveria fazer de trás para adiante isto é do mais antigo para o mais recente mas sim de adiante para trás isto é voltando às metáforas começar por estudar profundamente a galinha a fim de se poder chegar a uma melhor compreensão das propriedades reprodutivas do ovo convidadas por esta nada canónica teoria eis como ele a desenvolveu aspas falar do passado é o mais fácil que há está tudo escrito é só repetir papaguear conferir pelos livros o que os alunos escrevam nos exercícios ou digam nas chamadas orais ao passo que falar de um presente que a cada minuto nos rebenta na cara falar dele todos os dias do ano ao mesmo tempo que se vai navegando pelo rio da história acima até às origens ou lá perto esforçar-nos por entender cada vez melhor a cadeia de acontecimentos que nos trouxe a onde estamos agora isso é outro cantar dá muito trabalho e exige constância na aplicação há que manter sempre a corda tensa sem quebra fim da citação noutra passagem do romance esta velha e banal alegoria do rio da história enriquece-se com uma novidade de tome ao chamar-se a atenção para a importância dos pequenos e médios cursos de água que afluem ao rio principal esse sem os quais a rede hidrográfica da história não passaria de um estagnado e apodrecido panta o que o meu professor de história pretendia expressar com estes aparentemente gratuitos jogos de água é que sendo verdade que o passado nos fornece como é sua obrigação inúmeras chaves indispensáveis à compreensão do presente não é menos verdade não menos verdade é porém que o estudo do presente aplicado à história também a antiga mas principalmente recente lançaria novas luzes sobre sucessos que os observadores e testemunhas coetâneos deviam ter parecido univucos encerrados ilimitados no seu próprio acontecer e sobretudo inocentes de outras consequências além das imediatas sem ir mais longe nas previsões que a linha do horizonte visível esta linguagem críptica tornar-se transparente na relação que sem dificuldade poderia-me estabelecer por exemplo entre alguns aspectos do estado atual do mundo e as intervenções armadas dos Estados Unidos na Coreia e no Vietnã e também porque não nas guerras de 1914 a 1918 na Europa e pelas mesmas e outras razões na guerra mundial de 1939 a 1945 não devo porém olvidar que me encontro na Universidade para Estrangeiros de Siena e não em um instituto de estudos políticos e militares administrar um curso sobre Estratégias de Domínio do Planeta ao contrário do que certamente já vos terá parecido não perdi a bússola no caminho que me trouxe a este ponto de buracos negros de esquecimento da galáxia humana que tenho vindo a falar sempre e aí se me o permite ainda a vossa paciência começarei continuarei por alguns minutos mais imaginemos então que o meu personagem trotuliano Máximo Afonso é professor de História nesta Universidade e que com a necessária aprovação superior vai pôr em prática aqui o seu revolucionário projeto na sua classe há estudantes de diversas nacionalidades alemães franceses espanhóis ingleses belgas holandeses polacos bulgares canadianos gregos norte-americanos suecos austríacos japoneses sul-africanos e até mesmo quem sabe algum português eu disse algum português mas a verdade é que são muitos os portugueses que estão a estudar aqui todos eles empenhados em conhecer a história de Itália e a cultura italiana escusado será dizer que trotuliano Máximo Afonso satisfará escrupulosamente o interesse dos seus alunos mas invertendo a ampulheta da história principiará por traçar o panorama da situação política económica social e cultural da Itália de hoje e daí avançará para o passado mas sempre e isso não será o menos importante detendo-se na análise do como e do porquê de cada caso concreto de modo a que os encadeamentos os nexos as ligações de tudo com tudo fiquem claramente inscritos na memória e no espírito dos seus estudantes um trabalho de Hércules direi assim é de facto mas Tertuliano Máximo Afonso irá querer muito mais dirá aos seus alunos agora é a vossa vez que cada um de vós na medida dos desconhecimentos que haja adquirido faça em relação ao país onde é natural o mesmo trabalho que eu fiz aqui em relação à Itália que seja cada um de vós ao mesmo tempo mestre dos seus condicípulos e mestre meu e que depois de ter desaprendido comigo possamos começar agora a aprender todos com todos fim das palavras do Tertuliano não é difícil prognosticar que a aula do professor Tertuliano Máximo Afonso se transformaria num vulcão de entusiasmo utopia direis assim é de facto mas se a ideia é absurda e portanto impraticável então que se inventem e apliquem outras que sejam igualmente criadoras de memória ideias que nos salvem do buraco negro de esquecimento que todos os dias mais ou menos nos vai engolindo e ainda por cima de olhos fechados sem Zeus nem Hera nem Heracles atrevo-me a pensar que na aula do professor Tertuliano Máximo Afonso se passaria algo como a aparição igualmente resplandecente de uma nova Via Láctea mas nessa nenhum buraco negro ameaçaria se a outro não vamos poder escapar ao menos que não façamos este por nossas próprias mãos tenho dito magnífico reitor a última palavra será para expressar a minha profunda gratidão pela honra que a Universidade de Estrangeiros de Siena me concedeu a acolher-me entre os seus esforçar-me-ei em todas as circunstâncias por ser digno dela por não desmerecer jamais do vosso bom juízo graças ao qual me foram abertas as portas desta casa que a partir de hoje considerarei também minha muito obrigado graças a Deus